La Lega di Salvini scende anche nelle piazze principali calabresi per chiedere un parere ai cittadini sul contratto di governo stretto con il Movimento 5 Stelle. Mentre i pentastellati hanno già affrontato la consultazione interna attraverso la piattaforma Rousseau, che ha dato parere positivo all'accordo con una scontata maggioranza bulgara, i leghisti hanno scelto invece la via del confronto diretto con la gente. Tanta l'affluenza ai gazebo è un dato su tutti. I cittadini vogliono un governo, subito. Abbiamo avuto un afflusso in poco più di un'ora notevolissimo, si parla di centinaia di persone, di tutti gli strati sociali. Quello che più ci colpisce è la velocità con cui vogliono votare e quello che chiedono, cioè a dire perché si faccia in fretta a dar vita ad un governo. Cosa ne pensa del fatto che all'interno del contratto però non sia riportata la parola Sud? Tutto da vedere. Non è sfuggito da nulla per il Sud, questa è una cosa che non va, mi avviso. Anche se io sono per la Lega di Salvino, certo, va migliorato, va rivisto in qualche modo. Vediamo se possiamo intervenire con i nostri politici locali. C'è qualcosa che non va. E se dovesse scegliere un premier tra Salvini e Di Maio, chi sceglierebbe? Di Maio. Di Maio, sì. Vediamo sì, si può cambiare una poca situazione. Noi abbiamo fatto l'elezione, questo governo, quindi capito perché non va a comandare. Un'ivotazione. È favorevole. C'era il tuo voto ieri 5 Stelle, sia per l'uno che per l'altro che sono andato a comandare, speriamo che le cose vanno bene. Marco Lefosse per la Cinews24. Grazie.